Implementare la raccolta differenziata, lavorare per la realizzazione degli impianti intermedi e mantenere pubblica la SIA. Il sindaco De Magistris ribadisce le priorità sul fronte dei rifiuti nel corso della seduta monotematica di Consiglio Comunale sui temi dell'ambiente. Un intervento articolato, preceduto da quello del vice sindaco Tommaso Sodano, per ripercorrere le cose fatte e quelle ancora da realizzare, senza dimenticare le limitate risorse disponibili. Per vent'anni sostanzialmente si è fatto poco, si è distrutto e ci hanno lasciato una città con 2.500 tonnellate di rifiuti. In due anni si è fatto tanto, ma stiamo a metà del percorso, bisogna fare ancora tantissimo, bisogna migliorare lo spazzamento, bisogna realizzare gli impianti che abbiamo cominciato a realizzare, bisogna rafforzare la differenziata. Ma è una strada ormai tracciata senza ritorno, non ci sarà mai più emergenza, non ci saranno mai più discariche e mai più inceneritori. Questa è una rivoluzione che hanno voluto i cittadini, i comitati, le associazioni ed è per questo che il 16 novembre, col gonfalone della città di Napoli, saremo in piazza per la protesta, ma soprattutto per raccontare anche le nostre proposte, che sono forti anche a difesa di tutti quegli imprenditori onesti e seri che investono in Campania, in una terra pulita e che non vogliono macchiare la loro forza e la loro dignità per quei pochi che hanno violentato i nostri territori. A margine della seduta consigliare è stata inaugurata anche l'opera che l'artista napoletano Fabrizio Scala ha scelto di donare alla sala stampa del Palazzo di Via Verdi.